In evidenza il sindaco Maurizio Falanga, primo cittadino di Poggio Marino, la cittadina vesuviana che fa da cerniera tra le province di Salerno e Napoli, una cittadina di confine che vive anche i problemi delle due realtà in un ampio contesto urbano. La nostra posizione è una posizione che per qualcuno potrebbe sembrare penalizzante, invece io credo che sia una posizione strategica perché essere, come diceva lei, cerniera tra due province è in realtà motivo per attingere a quello che di buono c'è nella provincia di Napoli e avere uno sguardo verso la provincia di Salerno che è nostra confinante. In questo, nella nostra azione amministrativa, teniamo conto di questa nostra posizione e cerchiamo di dialogare con i paesi immediatamente prossimi della provincia di Salerno, restando chiaramente ancorati normativamente alla provincia di Napoli, dalla quale dipendiamo e con la quale cerchiamo giorno per giorno di instaurare un colloquio costruttivo per le nostre politiche amministrative che ogni giorno mettiamo in campo. Tra i problemi condivisi dai paesi dell'area vesuviana e l'agro ci sono anche quelli strettamente connessi alla sanità e alla carenza di strutture ospedaliere vissuto dalle due province. Falanga, la scorsa estate, è stato in prima fila per salvaguardare dalla chiusura il vicino ospedale di Sarno. Certo non si può negare, non si possono negare i problemi che ci sono della sanità in Campania, sono problemi storici, sono problemi che ormai stanno diventando strutturali, però io sono abituato ad essere ottimista da quando sono sindaco e vedo che qualcosa comincia a muoversi. Noi siamo destinatari della costruzione di una casa di comunità che presto vedrà la luce a Poggio Marino, io credo che questi distretti locali possano solo migliorare la situazione della sanità in Campania. essere più prossimi al cittadino è questa la strada che deve indirizzare noi amministratori. Quanto più vicini cerchiamo di essere e noi come amministrazione cerchiamo di esserlo tutti i giorni, il nostro impegno è proprio questo, quello di essere, lo abbiamo promesso in campagna elettorale dai palchi, stiamo cercando di farlo, io credo che lo stiamo facendo bene, stiamo cercando di andare incontro ai cittadini, di essergli vicino e cercare quanto meno di farli sentire soli e in tema di sanità il cittadino spesso si sente solo perché è un cittadino che ha problemi più grossi rispetto agli altri che sono quelli legati alle patologie, legati alla possibilità di accedere alle strutture sanitarie. Ecco noi dobbiamo lavorare in questo con gli enti sovracomunali, regione, città metropolitana dobbiamo andare in questa direzione, avvicinare il cittadino alle istituzioni è secondo me il mandato principale che abbiamo e da lì tutto viene più facile. Fondamentale per questa grande area metropolitana sono la mobilità e la connessione dei collegamenti sia su gomma che su rotaia e Falanga fa le sue osservazioni. Come comunità poggio marinese stiamo cercando di fare rete ma non in maniera astratta, in maniera concreta stiamo investendo molto sulla mobilità, stiamo sfruttando quelle che sono le opportunità anche in questo periodo di PNRR per far sì che Poggio Marino, è vero che in questo momento noi siamo pieni di cantieri ma sono dei cantieri che in qualche modo ci proiettano verso una Poggio Marino meglio integrata con gli altri comuni della regione perché stiamo lavorando sugli assi viari che ci collegano agli altri comuni, stiamo lavorando molto sulle strade periferiche, sulle strade provinciali grazie anche alla collaborazione della città metropolitana che ha la competenza su molte strade che collegano Poggio Marino agli altri comuni e alle altre realtà della regione. Quindi da questo punto di vista stiamo lavorando molto insieme a tante altre cose ma per noi Poggio Marino deve essere un interscambio, deve essere inserita in un interscambio con gli altri comuni. Ci stiamo impegnando molto sul discorso della nuova stazione che stiamo seguendo in prima persona che dovrebbe vedere la luce nel territorio di Striano ma noi siamo assolutamente sul pezzo, gradiamo con favore i lavori di ampliamento che si sono fatti della 268 che ormai ci ha collegati a due caselli autostradali e quindi Poggio Marino da questo punto di vista vedrà un nuovo sviluppo perché è meglio interconnessa con il resto della regione. Non mancano le osservazioni sullo stato generale della sicurezza sul territorio e lo stretto rapporto di Poggio Marino città con le altre realtà. Anche in questo stiamo cercando di impegnarci al massimo purtroppo con le poche risorse che abbiamo trovato in forza al comune, alla nostra polizia municipale però abbiamo una stazione dei carabinieri che ci dà una grossa mano e anche le altre forze di polizia ci stanno dando una mano ad esempio in questi giorni stiamo cercando di tutelare un po' le abitazioni, il sovraffollamento e quindi capire un attimo quali sono i problemi e in prima persona io gli assessori ci stiamo impegnando con le forze dell'ordine ad andare a scovare sacche di illegittimità, illegalità di occupazioni abusive perché queste secondo noi non fanno male solo a coloro i quali sono sovraffollati negli appartamenti ma fanno male a tutta la comunità di Poggio Marino perché chiaramente questo si ripercuote sulla nettezza urbana, si ripercuote sulla sicurezza proprio dei cittadini di Poggio Marino. Allora confidando e ricevendo un aiuto costante da parte della prefettura ma anche della questura, delle forze dell'ordine come dicevo degli enti sovracomunali, abbiamo instaurato una collaborazione anche con la polizia della città metropolitana quindi voglio dire ci stiamo in questo senso muovendo e cercando di avere anche una Poggio Marino oltre che più bella, più funzionale ma anche più sicura.